Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli? Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera c'è una sorpresa per te. Disney ha messo a disposizione in edizione limitata 500 forzieri che contengono 52 DVD con tutti i classici da Biancaneve dal 1937 fino al più recente Frozen. Ufficialmente sarà in commercio a partire dal 4 novembre, ma è già possibile prenotare la sua Maison al prezzo di 399 euro. Tu saresti disposto a pagare una cifra simile per possedere questa collezione? La verità, come idea originale ci sta, tutti dividi la storia dei cartoni della Disney, però come prezzo secondo me è un po' troppo. Cioè sarebbe meglio suddividerlo a sua volta in vari pezzi con costo migliore, perché comunque magari uno non vuole prenderli tutti e è un costo così che magari qualcuno non si può permettere. Penso che possa eventualmente essere un regalo che valga la pena fare per chi magari ha dei bambini più piccoli, per cui magari se li devono vedere tutti? Ma sì, è divertente come cosa, soprattutto per i bambini che almeno si guardano i cartoni della Disney. Hai un cartone in particolare che ti è rimasto nel cuore, che riguarderesti volentieri? Non ho visti molti, adesso non mi viene in mente, però penso a Mickey Mouse, il topolino. Perché ho fatto anche dei giochi in cui c'era lui quando ero più piccolo, quindi mi è rimasto più impresso lui. Dici che è qualcosa che è rimasto sempre solo ai bambini o anche agli adulti si appassionano ai film della Disney? Beh, in verità ci sono anche gli adulti che per esempio collezionano i fumetti e cose del genere della Disney, quindi penso che vada anche per gli adulti, chi è appassionato del genere lo potrebbe prendere. Esiste invece un film della Disney che tutti amavano ma tu proprio non l'hai sopportato e non sopporti? Penso di sì, ma al momento non mi viene in mente, comunque per esempio il genere è un po' più infantile, dove ci sono le principesse e anche le robe del genere non potrebbero non piacermi. Oddio, no, perché comunque adesso c'è internet, comunque vado lì sui siti, quindi no, per quanto mi piacciono, no, non spenderei mai tutti quei soldi. Può essere un buon regalo di Natale per dei bambini più piccoli? Sì, senz'altro, però è eccessivo, adesso che comunque li metti lì sul computer e stanno lì tutto il giorno. I film Disney rimangono sempre solo per i bambini o anche gli adulti comunque rimangono affezionati? Beh, io personalmente sono rimasta affezionata, cioè potrei stare tutto il giorno a guardare film Disney, però... Hai uno in particolare che è il tuo preferito? R. Leone. Mi ha preso talmente tanto che, boh, mi ha fatto piangere e piango tutt'ora, quindi rimane il mio preferito. Invece uno che non ti è mai piaciuto e tutt'ora non ti piace? R. So che magari qualcuno mi vorrà uccidere, ma è Hercules. Mi fa ridere, non mi piace proprio. Cioè da piccola sì, me lo mettevano su, lo guardavo. Oppure il libro della giungla, quello lì non lo sopporto proprio. R. Assolutamente no. Beh, primo non sono nella fascia di età alla quale può interessare questo prodotto. Comunque, anche se per esempio avessi dei figli, assolutamente no. A quel prezzo no. Poi al giorno d'oggi, anche se non si può, tutto si scarica da internet, quindi non vedo proprio l'utilità. Per giunta si può guardare anche con Sky o qualche abbonamento di questo tipo, quindi no. R. Quindi non sarebbe un buon regalo di Natale per chi ha dei bambini eventualmente? R. È estremamente gustoso, con quei soldi lì uno cosa ci può comprare, obiettivamente. R. Quindi sei convinto che sia un prodotto fondamentalmente solo per bambini? R. Non credi che anche gli adulti poi amino ancora la Disney, nonostante siano un po' cresciuti? R. No, credo di no. R. Non guardi mai più cartoni? R. No, no, no. Ma fondamentalmente sicuramente non quelli della Disney. Secondo me sono fatti per un pubblico, non so, potrebbe arrivare a dieci anni. R. No, dicevo più grandi, no. R. Hai uno in particolare che quando eri bambino ti piaceva, che ti ha messo nel cuore? R. Penso il Re Leone, però non mi ha mai più ricapitato di riguardarlo e non lo riguarderei. R. No, non mi ha mai più ricapitato di riguardarlo e non lo riguarderei. R. No, non mi ha mai più ricapitato di riguardarlo.